Scatta domani lo stop allo stato d'emergenza nazionale per il covid e nonostante rimanga l'allarme per una crescita, seppur meno marcata, del contagio anche in campagna, saranno ridotte attività di prevenzione e vaccinali. In questa direzione va anche la chiusura del covid center della mossa d'Oltremare di Napoli che lascerà spazio a una piccola area dedicata solo ai profughi ucraini. Dopo più di 700.000 punture effettuate chiude dunque la struttura ma resterà aperta a quella del frullone. Nelle ultime settimane è crollata letteralmente la richiesta di vaccini dunque non si rende più necessaria l'organizzazione messa in piedi fino ad ora. Scade sempre domani la possibilità per i medici di famiglia, quei pochi disponibili naturalmente, di sottoporre i loro assistiti ai tamponi gratuiti. Dal primo aprile si potranno effettuare solo a pagamento nelle farmacie e nei laboratori. Tornando ai numeri aumentano per la seconda settimana consecutive i ricoveri di pazienti covid più 8,6 per cento ma l'incremento è meno marcato rispetto a una settimana fa più 10,7 per cento. Il dato riguarda i ricoveri ordinari che fanno segnare un più 9,4 per cento a differenza delle terapie intensive dove il numero di pazienti scende al 3,4 per cento. Questo emerge dalla rilevazione della federazione aziende sanitarie ospedaliere Fiaso del 29 marzo. La curva dei ricoveri in discesa dal primo febbraio dunque ha invertito la direzione ormai da 15 giorni. Eppure come detto in questo contesto si prova a ritornare alla normalità sintomo che la percezione del governo e dell'isis che si sia passato dalla pandemia all'endemia dunque occorre sempre più convivere con il virus e accettare la sua presenza continuando a proteggersi in autonomia e potenziando cura e assistenza.